provi a vederselo vedi questa si melancia girata ci hanno già girato il link prova a girarlo che io lo devo girare anch'io non lo trovo grande così lo inoltre grazie marco come faccio inoltre provi inoltre come faccio allora lo prendi qua non hai ho salvato il mio contatto adesso lo prendi qua grazie marco grazie mille e domani non lo so neanche io non ho ma si può il begato chi gioca ah non si può solo te perché chi gioca? Genoa? grazie mille grazie mille Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.